Nel video di oggi dimostrerò anche agli irriducibili della luce naturale che utilizzare il flash è una grandissima figata. So di traumatizzarvi un po', ma questa è la luce naturale all'interno del mio studio. Bene, ma eccoci tornati in una situazione di comfort. Non avrei mai voluto farvi vedere com'è la luce naturale all'interno del mio ufficio, ma mi serve farvelo vedere per farvi capire la differenza tra una luce naturale che però non è bella e una luce invece dove facciamo esattamente quello che vogliamo noi. Nel corso del video di oggi andrò a farvi vedere com'è possibile ottenere la stessa cosa, però non in una stanza trattata come questa dove faccio esattamente quello che voglio, ma in un ambiente non trattato dove anzi magari si fa tutt'altro. E andremo a vedere com'è possibile utilizzare il flash in maniera creativa per ottenere un qualcosa che è impossibile da vedere con gli occhi e che esiste di fatto solamente durante il lampo del nostro dispositivo. Prima di cominciare chiedo un piccolo aiuto a tutti i sostenitori di questo canale. Oltre a iscrivervi se ancora non l'avete fatto, condividete questo video con tutti i fotografi che conoscete e che scattano sempre e solo con luce naturale. Facciamo un po' di consapevolezza su che cosa significa utilizzare il flash in maniera creativa, quindi non per sopraffare la luce ambientale e creare un qualcosa di distopico, mostruoso e che in realtà non esiste, ma un utilizzo consapevole del flash per creare una scena più bella di quella che abbiamo trovato e per creare qualcosa che altrimenti non saremo stati in grado di fare. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia per le aziende. Nel video di oggi vi faccio vedere alcune immagini realizzate appunto per un'azienda. Perdonatemi per la censura, ho oscurato un po' di volti, ho oscurato un po' di cose che preferiamo non far vedere. Quello su cui mi preme mettere l'accento è l'utilizzo creativo dei flash. Ci troviamo a lavorare in un'officina con dei grandi macchinari ingombranti. Perché decidiamo di utilizzare i flash per questo lavoro? Beh, innanzitutto per illuminare la scena e avere più controllo, perché la scena per come si presentava, come potete vedere, è una luce assolutamente naturale, nel senso che la luce proviene da ampie finestre, grate, vetri smerigliati, oscurati sul soffitto che comunque diffondono molto bene, e quindi la luce non è male all'interno dello spazio, ma è molto piatta. Abbiamo a che fare con una luce completamente piatta. Ecco che mio vecchio maestro Charlie Borland mi ha insegnato tramite dei corsi che ho seguito, quindi non di persona, tramite dei corsi ho imparato da questo, secondo me, grandissimo fotografo, l'arte di utilizzare le luci flash in questa maniera, esattamente in questo contesto. Vado a farvi vedere il comparto tecnologico utilizzato, quindi qui abbiamo un fondalino calamitato, che è lo stesso che utilizzo sulla lucetta che mi manda un pochettino di blu, la retroilluminazione blu. Sto usando un affare di questo tipo, montato davanti alla mia fonte luminosa, che chiaramente ha l'effetto di andare a colorarla, e ne riduce la potenza, però noi andiamo a gestire la potenza di conseguenza, e quindi abbiamo una luce che esce colorata. In quel caso ce la giochiamo facile, ma esiste anche la possibilità di prendere dei fogli di gel senza alcun supporto, e in questo caso, anche qui tecnologia scansate, spero che riusciate a vederla, questa è una mollettina, con cui io vado a pinzare il mio foglio, e lo vado ad attaccare sopra la parabola, che poi vado a mettere davanti alle mie luci di nuovo, questo ha l'effetto di colorare la mia luce. Quindi noi abbiamo la potenza, che è data dalla torcia, abbiamo il diffusore in questo caso, e poi abbiamo il colore. In questo modo riusciamo a gestire quantità, qualità e colore della nostra luce. Andiamo a vedere nello specifico come è stato gestito il lavoro. Come potete vedere, stiamo utilizzando delle torce flash da studio, che sono le Godox SK400 versione seconda. Queste torce sono collegate tramite il trigger X-Pro C di Godox, quindi il trigger dedicato per Canon, la C sta per Canon, quindi io sto usando il mio. Se utilizzate un altro brand, dovete prendere l'X-Pro N, l'X-Pro S, eccetera, eccetera, c'è per tutte le case. Questo mi permette di far scattare i miei flash in sincrono, e come potete vedere, c'è uno dei flash che monta un beauty dish, quindi da una luce di schiarita un pochettino più neutra, e poi ne abbiamo altre due, una con montato un gel blu e una con montato un gel arancione. Blu e arancione li ho scelti perché sono colori che, essendo distanti nella ruota cromatica, danno un bel contrasto, inoltre si prestano molto bene per uno scenario di questo tipo. In certi scatti vedrete anche del verde, perché abbiamo aggiunto anche qualcos'altro, avevamo quattro torce alla fine, ma nella maggior parte degli scatti tre sono state sufficienti. Andiamo a vedere come si presenta la scena, e vi faccio vedere prima il risultato finale, dopodiché andiamo a vedere come sarebbe stata la scena senza le luci flash, e come potete vedere c'è una differenza abissale. Nello scatto finito, diciamo, abbiamo uno scenario molto moody, molto lavorato, eppure la fotografia è così in macchina, non c'è niente di post-produzione. Se non, sì, ho applicato il mio preset per la nitidezza, che vi metto in free download, come sempre nei link in descrizione, se vi dovesse interessare, ma è tutto lì. Il lavoro è già stato fatto in macchina, e noi abbiamo la fotografia già finita. La grossa differenza ovviamente è che la luce ha una direzione, oltre a un colore e un'intensità, quindi noi possiamo anche andare a sbattere un gradiente colorato sulle nostre foto in post-produzione, ma non è la stessa cosa. In questo caso abbiamo la luce che illumina solo certe parti, e la luce che fa da controaltare, che illumina le ombre dall'altra parte, quindi è un effetto vero, completamente diverso, e tenete conto, conviene farlo per davvero così, portandosi dietro la roba, oppure conviene mettere su un filtrone a gradiente in post-produzione. Personalmente preferisco farlo davvero, per almeno due ottime ragioni. La prima è che viene meglio, la seconda è che così faccio vedere al cliente che ho effettivamente fatto un qualcosa che da solo non si poteva fare, perché il gradientone ormai lo sanno mettere tutti anche con la I, quindi non c'è più bisogno di me, se il mio contributo si riduce a mettere un gradiente. Invece portare dietro la strumentazione, saperla usare e creare questo scenario è un qualcosa sicuramente che va oltre. Inoltre c'è anche un altro motivo, ovvero un conto e dire, va bene, io faccio tutte le foto con luce ambiente, poi sparo su gradienti e faccio pasticci. Benissimo. Finché lo fai su una foto, va bene, te la cavi. Ora facciamo finta che le foto siano 300, che abbiamo fatto tutti gli scenari così, e poi dobbiamo andare a post-produrre 300 foto con pose diverse, collaborazioni diverse, ci mettiamo un'eternità. E quindi non siamo più in grado di guadagnare da quel lavoro, perché è più il tempo che ci stiamo perdendo dietro rispetto a quanto abbiamo guadagnato. Invece in questo modo, giornata di shooting, si fa quello, ma poi le foto sono già pronte, sono già finite, e la resa è superiore rispetto che se avessimo messo dei filtri dopo. Qualcuno di voi potrebbe obiettare, beh, ma questa roba si poteva fare anche con le luci continue, perché ci parli di flash. E in realtà, ragazzi, io vi dico di no. Non si poteva fare con le luci continue per un motivo molto semplice. Perché? Avete visto l'immagine, diciamo, senza le luci. Avete visto il risultato finale, e poi vi faccio vedere il risultato della stanza senza le luci flash. La stanza non è buia, la stanza è bene illuminata. E quindi che cosa succede? Io ovviamente vado ad agire sui parametri della mia macchina. Lavoro con gli isobassi, lavoro con tempi rapidi, quindi vado a un centottantesimo, un duecentesimo di secondo per escludere tutta la luce ambiente. Ma se io introduco delle luci continue, queste luci continue sono forti tanto quanto la luce ambiente. Ricordiamoci che la luce ambiente contro cui dobbiamo combattere è quella del sole che picchia sulle vetrate a soffitto. Quindi la luce ambiente è tanta paradossalmente. E per avere questo lampo di colore intenso, io devo per forza affidarmi alla potenza di un flash, altrimenti il risultato non viene. Altrimenti io vado sì a introdurre una luce colorata, ma è molto blanda e non la posso gestire. Mentre con il flash, lavorando con i tempi di scatto, io posso decidere quanta luce ambiente far entrare, poca, in questo caso la taglio quasi tutta, e quanta luce flash. E quella invece la gestisco con i suoi diaframma. Quindi riesco a ottenere questo effetto proprio in virtù del fatto che sto utilizzando le luci flash. Ora, questo stesso effetto io ve lo faccio vedere su scala ampia, nel senso che qui stiamo lavorando in una stanza abbastanza grande su dei macchinari che sono abbastanza grandi. Quindi è più complicato lavorare su dei soggetti grossi. A me è capitato di fare still life per cose piccole, una bottiglia di birra, un orologio, quello che volete, e mi è capitato di fare still life su grossi macchinari industriali. Ve ne parlerò in un altro video se vi interessa fatemelo sapere in un commento. Still life, quindi foto di questi stessi macchinari magari però isolati su sfondo bianco. Molto bello, molto divertente. Qui, analogamente, abbiamo fatto il lavoro, è più difficile lavorare su cose grandi perché più è ampia la scena, più devono essere potenti le luci, più fattori entrano in campo e più è difficile isolare un soggetto. In questo caso non dovevamo isolare, dovevamo prendere tutta la zona di lavoro, però insomma è più difficile lavorare in un contesto così ampio. Se stiamo lavorando su un tavolo da still life con tre lucette è molto più semplice. Sposti una cosa e sei subito in bolla. lì invece spostare i cavi, magari cambiare la presa, metterla da un'altra parte per non avere il filo di mezzo. Insomma era molto complicato però tenete conto che quello che vi ho mostrato lo potete fare in piccolo anche su un soggetto, lo potete fare anche su un ritratto per dire posizionando le luci come volete in maniera creativa luce a tre punti piuttosto che due punti luce quello che volete potete creare le vostre composizioni con queste luci colorate anche in una stanza non perfettamente oscurata. Il grosso vantaggio del flash è questo lo potete fare anche paradossalmente all'aperto se avete dei flash abbastanza potenti da bilanciare la luce del sole qualcosa di simile si può ottenere anche all'aperto quindi avere il nostro soggetto illuminato dalla luce flash incontro sole magari quindi la kick light la farà il sole da dietro noi andiamo a mettere una luce colorata e dietro manteniamo l'esposizione del cielo perfettamente azzurro queste sono tutte cose che si possono fare col flash si potrebbero fare anche con le luci continue ma ci vorrebbero delle luci continue con una potenza spropositata e costerebbero molto di più e inoltre è molto più comodo utilizzare i flash perché consumano meno costano meno ci consentono di lavorare con i gel riscaldano di meno tenete anche conto che un gel viene messo davanti alla luce e si ovviamente si becca tutti i lampi e magari si becca anche la luce pilota però un conto è metterla davanti a un flash che lampeggia ogni tanto un conto è metterla davanti a una luce continua che deve continuamente stare accesa a un certo punto il calore va non dico a bruciare il gel anche se il rischio sussiste ma comunque lo va a deteriorare l'ambiente si scalda un ambiente come questo un'officina già si crepa di caldo se andiamo a portare dentro delle lampade da 1000 watt stiamo freschi per cui per tutti questi motivi secondo me il flash è assolutamente vantaggioso a questo punto però fatemi sapere qui sotto in un commento che cosa ne pensate io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulla mia serie sull'utilizzo delle luci flash e non solo vi ricordo anche che io spesso rispondo ai vostri commenti con degli shorts verticali quindi iscrivetevi adesso così non rischiate di perderveli signori è stato come sempre un piacere passare un po' del mio tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video e io vi do appuntamento